ragazzi welcome back sono michele conosciuto anche come mike the desert sul web e dovrò costruirmi un piccolo piedistallo per questo microfono se voglio rendere lo spirito del gdr pulito come questo audio che state sentendo adesso a differenza dello scorso un po echeggiante e contemporaneamente rimuovere qualunque difetto che può portare tastiera e scrivani antica come ho giocato chiamandola lo scorso episodio dunque ci lavorerò sopra per ora dobbiamo lavorare ad altro awakening adesso è veramente ufficialmente cominciato la tutta la introduzione tutto il prologo che abbiamo vissuto è stato superato e io ho tanta voglia di fare anche perché questi level up per ora rimangono incompleti in quanto voglio ottenermi le skill per dopo anche se è vero potrei sprecarle e poi fare un bel respac alla fine con quell'oggetto tanto comodo ma finché possiamo mantenere il role play anche nella costruzione del personaggio per quanto superfluo e assolutamente non consono neanche al role play che intendo io perché è una cosa separata in questo caso specialmente in origins proseguiamo nel farlo andiamo avanti a vedere come proseguono le quest e piano piano completiamo tutto ciò che possiamo anche nei dintorni di questa maranthin di questa fortezza della veglia forza con questa musica meravigliosa proseguiamo non sarebbe male spero che qualcuno lo faccia per me perché non basta già lo sapevo immagino che dovrò metterci bocca in qualche modo vero maiku ti tocca vedremo come te la puoi cavare davanti a una cosa così tanto aliena rispetto alla tua abitudine beh è comunque piuttosto affascinante il fatto che maiku può comunicare anche se in modo poco empatico la passione che ha nel combattere la parole oscura e ora nel seguire i custodi che l'hanno reso ciò che è oggi quindi potrebbe funzionare ma con certi tipi di mercante finirebbe molto male non certamente nel sangue maiku non è un assassino a sangue freddo salvo per qualcosa come è stato quel momento con branca o se l'avrebbe fatto o se l'avrebbe fatto tuttavia uccidere è diventato molto molto facile per lui ormai beh d'accordo cosa devo sapere sul loro conto wow bene oh questo è interessante per quanto sia molto diplomatica come frase stavolta persuasione ha effetto sulla mia scelta perché è esattamente ciò che vorrebbe comunicare il problema è che non importa qui cosa siamo la politica gli scambi culturali no no qui c'è la parola oscura di nuovo qui non si gioca i custodi sono importanti punto ben esmeral of amaranthine as is old custom you have the honor of beginning i promise that i ban esmeral will be faithful to the all in matters of life limb and earthly honor never will I bear arms against him or his heirs so I say in the sight of the maker I promise that I lord edelbrecht and so the ceremony is complete long live the warden command già addirittura una missione un bel quick save per evitare i drammi di un bel crash i lord e le lady ti hanno offerto la loro fedeltà è un buon momento per fare le loro conoscenze quando vorrai porrei fine alla cerimonia parla con siniscalco varel beh mi dispiace ma credo proprio che sarà il caso nel quale parlerò immediatamente con il siniscalco varel non ho alcun interesse di parlare con loro assolutamente alcun interesse punto esclamativo o meno non è il mio compito wow è una scelta difficile ignorarli tuttavia andiamo ad ascolto soltanto perché l'h.o.d. del gioco ci dà questa importanza ma ma è di o stesso per lui sono molto indeciso per quanto lui sia perfettamente ormai cresciuto e conscio al punto da conoscere l'importanza di queste politiche non gli interessa seguirle quindi non lo farà si d'accordo questo mi è stato già detto proprio dal siniscalco ah davvero questo sarebbe interessante da dire peccato che maiku non lo penserebbe per quanto intelligente se lo pensa non lo direbbe manterrebbe la coscienza di quello che sa senza minacciarla e quindi farle capire che lui può comprenderlo quindi ah voglio vederle continuo a reputare sciocco che veniate a parlarne direttamente con me ma d'accordo varele per favore portami fuori da qui no no hai capito perfettamente tuttavia ah meglio tornare non posso dargli ragione tuttavia d'accordo comunichiamogli questo wow è decisamente un interessante potere da avere nelle proprie mani pericoloso comunque no sono solo speculazioni no 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 decisamente non mi interessa se fate qualcosa fatelo voi poi venitemi a comunicare le vostre idee e le vostre soluzioni e se lo avete fatto ma non buttatemi in mezzo a questo Loghain e la parte del kingdom hanno cercato di stopparti la prima volta credo che non c'è nulla da preoccupare nulla di altro sono stato anche particolarmente fortunato ma la cerimonia è durata abbastanza se mi scalco come vuoi comandante scusate il hall il comandante ha business per attendere altro che se ce l'ho grazie missione completata ah non con poco stile pare andiamo sto controllando Nathaniel ragazzi è completamente disequipaggiato giustamente anche se c'era appunto lo scrigno con i suoi averi ma gli daremo qualcosa di meglio abbiamo venduto l'arco del DLC trovato in Origins ma compriremo o otterremo dal nostro equipaggiamento già attuale qualche arco decente per lui diciamo che fondamentalmente ha parecchi livelli da fare ma non ha delle caratteristiche non ha toccato nulla questo è il Nathaniel base di livello 22 e abbiamo due specializzazioni ovviamente l'ombra è divenuta piuttosto inutile lui è un arciere ho controllato guardate è molto affascinante il fatto che comunque sia molto molto ben specializzato già adesso nell'arceria con ben 10 talenti da spendere questo significa che se noi volessimo potremmo trasformarlo anche in altro tuttavia per ora non mi dispiace avere un arciere a distanza perché fondamentalmente possiamo renderlo un bardo e avere così multipli buff da parte di Anders e da parte del nostro Nathaniel contemporaneamente ad Ogren che come Berserker può creare una bella 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 barahonda quindi rendiamo lombardo un esploratore affascinante ma non credo ci interessi troppe abilità poi no non abbiamo bisogno di qualcuno in grado di addestrare animali in combattimento non ce n'è bisogno piuttosto è affascinante questo destrezza più 2 dopo tutto ma buona parte delle storie tra la legione dei morti in anica e invenzione dei menestrelli ma la scena di cadaveri di parola oscura che la legione si lascia alle spalle testimonia l'efficacia del loro addestramento gli esploratori della legione viaggiano spesso in avant scoperta e di conseguenza sono famosi per la loro incredibile resistenza che permette loro di sopravvivere a battaglie che ucciderebbero qualsiasi altro ladro questo è molto affascinante perché è interessante non conosco le abilità che potrebbero scaturire da tale specializzazione quindi vediamo vediamo detto ciò cominciamo a creare qualcosa di utile come una sopravvivenza evoluta che non ha nessun altro personaggio con la quale potremmo già avanzare al riguardo di qualche quest che magari ancora non abbiamo raggiunto e poi tattiche perché dopo tutto queste cose credo che basti che le abbia un personaggio soltanto per il resto per quanto riguarda le abilità queste saranno i nostri prossimi passi no avete ragione anche voi che mi state leggendo nel pensiero è vero che le tattiche mi stanno piacendo molto le sto utilizzando ma le sto utilizzando in maniera piuttosto superficiale poco agonistica poco competente rispetto a quello che potrebbe fare un giocatore esperto della Dragon Age saga quindi d'accordo avanziamo a rendere il nostro personaggio più competente più tranquillo nelle sue abilità senza che consumi troppo vigore e andiamo avanti bene ora Bardo vediamo un po' canto di valore distrazione è un'attiva questo sarà meno interessante per un personaggio passivo il Bardo segue un canto epico riguardante le geste del gruppo conferendo al gruppo un bonus d'attacco danni e probabilità di critico questo è utile per il berserker e questo stordisce i nemici questo è veramente molto utile per poterla combinare con tempesta nel caso potessimo danneggiarli a lungo d'accordo allora consumiamo moltissimo di questo mentre l'assassino in realtà sapete mi interessa molto poco questo è interessante un attacco alle spalle che aumenta il danno mentre questo è un altro tipo di ah sono tutte passive potrei cadere vittima dell'interesse per queste abilità se il colpo alle spalle del personaggio infilisce abbastanza danni il nemico dell'assassino subisce una ferita sanguinante la quale inflige danni extra per un breve periodo di tempo questo è abbastanza inutile rispetto al nostro party intendo l'assassino trae profitto dalla morte ogni volta che il personaggio batte un nemico con un colpo alle spalle ripristina parte del proprio vigore no non consumiamo due level up per questo tuttavia ladro questo è interessante sono abilità aggiunte il ladro colpisce con grande precisione provando a eliminare un nemico indebolito con un colpo finale se l'attacco colpisce elimina istantaneamente un bersaglio di grado elite o inferiore rimasto con poca salute altrimenti è un colpo critico attiva si fonde con le ombre schiva gli attacchi prolungata il ladro sfrutta i punti deboli dei nemici colpendo ogni bersaglio in modo da aumentare tutti i danni subiti per un breve periodo di tempo questo è molto utile qualunque sia la fonte del danno molto utile e infine con 52 destrezza attiva guizzo il ladro ottiene una velocità letale impareggiabile all'interno dell'area selezionata il ladro sparisce in una macchia confusa ok questo non ci interessa ma questo invece è moltissimo ci arriveremo infine vediamo un po' se riusciamo a ottenere qualcosa arciere esperto ovviamente letali con archi balestre gli arcieri di esperti ricevono benefici extra quando utilizzano mira tiro difensivo tiro incapacitante eccetera eccetera elimina inoltre la penalità la velocità di attacco quando si indossa un'armatura pesante cosa? quindi possiamo vestirlo con un'armatura pesante adesso oh santo cielo e questi sono nuove abilità a livello alto di awakening precisione attivando questa modalità la mente dell'arciere è concentrata esclusivamente sulla traiettoria del prossimo attacco bonus all'attacco sono prolungate queste tuttavia sono molto affascinanti in realtà aha ok potrebbe essere interessante dopo tutto che sono attive e sono anche già acquisite quelle di queste prime due file d'accordo portiamola avanti sperando che l'intelligenza artificiale o le mie scelte di tattiche facciano la mossa giusta nel dedicargli le prolungate giuste d'accordo quindi equipaggiamolo con un quick save e andiamo avanti santo cielo io non vorrei sempre fare battute sulle scelte della Bioware ma credo che questa coppia di fabbri sia molto poco eterosessuale anzi mi sembra una bella accoppiata di checche isteriche ma Bioware dovrebbe decisamente creare un mondo più equilibrato ma voler far felici tutti i giocatori gli sta creando non poca infamia riguardo il suo concetto di social justice warriors ma questa è un'altra storia per un'altra discussione in realtà tutto si può dire di viewer tranne che non sia in grado di scrivere sono incredibili a proposito sappiate che in dragon age 2 avevo seria intenzione di inizialmente crearmi un oak maschio omosessuale e farlo innamorare di enders o comunque non farlo innamorare ma farlo proprio relazionarsi con lui che tra l'altro esatto ragazzi sarà un personaggio che sopravviverà e arriverà fino a dragon age 2 tuttavia volendo io già pianificarmi un personaggio maschile in inquisition ho deciso per non stuccare anche me stesso nelle idee di personaggi di sesso maschile anche cercare di spostarci a un sesso opposto infatti in dragon age 2 avremo shenya shenya hawk ma ne riparliamo ne riparliamo più tardi ragazzi ora come ora ho trovato un deposito minerario oh 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 questo aiuterà un gran deal viridium armor e weapons potrebbero essere fatte con questo commander se ti piace potremmo 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 i tuoi mani non costruirà niente ma alcuni soldati dovrebbero guardare i minerari già in realtà l'equipaggiamento è molto importante dopo tutto è un gioco di ruolo no? you abuse me santo cielo ragazzi regolatevi siate più indiscreti perlomeno siete davanti al comandante allora ci mancano degli stivali esatto ma non vorrei qualcosa di così banale vorrei qualcosa che possa dargli destrezza al nostro Nathaniel nonostante sia lo spirito del roleplay del GDR non sarebbe male poterci garantire anche un momento di gameplay ma visto che non abbiamo nulla piuttosto preferisco trovarlo in combattimento che sprecare delle preziosi sovrane andiamo bene cominciamo a ripulire l'aria delle nostre side quests side quests tuttavia salve guardate che figata era tanto tempo che non vedevamo la luce in Dragon Age solo pioggia e disperazione wow che bello beh ho notato comunque che nei nostri level up di Nathaniel non abbiamo considerato in maniera piuttosto seria un bel upgrade ai suoi unlocks dei al suo essere in grado di scassinare le serrature ma ci lavoreremo sopra ci lavoreremo sopra ora Nathaniel tu hai bisogno di un incredibile upgrade ecco qua apriamo tutte le varie abilità e dovremo fare delle tattiche anche per lui lo faremo durante questo episodio ma in off screen creiamogli quello che ci serve per combattere seriamente in un gruppo così variegato pronti bene fight la famiglia è stata sterminata è pieno di parole oscura è molto pericoloso e sì lo so lo so Nathaniel è senza arco e senza stivali ma è qualcosa che dobbiamo correggere al più presto che dite risolto Nathaniel anche se sto pensando tra l'altro questa è una famiglia incredibilmente ricca un diamante 13 sovrani indosso accidenti contadini piuttosto arricchiti da quello che facevano niente male è un peccato che abbiamo perso tutto a noi ci servono contadini tuttavia è molto interessante come con il respect noi potremmo trasformare il nostro gruppo in un qualunque momento in maniera molto diversa potremmo rendere Nathaniel un ladro con i pugnali rendere Ogren un tank con un spada e scudo si potrebbe fare veramente tanto e sto pensando che Ogren Ogren come tank sarebbe perfetto sai Ogren alla fortezza ti faccio fare una cosina con me un templare stivali sono pesanti purtroppo altrimenti sarebbe stata una coincidenza pazzesca per Nathaniel a noi serve 42 magie purtroppo invece a Nathaniel servirebbe 42 a forza siamo ben fuori dal nostro punto di riferimento di caratteristiche di questo ladro ecco qua ragazzi Ogren è pronto un difensore guerriero in mischia che punta tutto sul provocare con un set completo di armatura e scudo di arma e scudo come setup di skill passive e attive gli faremo le tattiche lo equipaggeremo e lo renderemo il nostro tank protagonista Amaranthin questa è la città il nostro party ormai è decisamente più completo che mai perlomeno a questo livello ciò che dovremo costruire in futuro saranno le loro rune le loro rune creeranno decisamente l'arma definitiva di questo DLC ma per ora esploriamo la città guardiamo che cosa esattamente ci dovrà donare come quest personaggi storia avanzamento e poi vediamo dove questo ci porta d'altronde sappiamo benissimo che il nostro obiettivo per ora è scoprire che diamine ha portato la parola oscura alla fortezza e come 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 non vedo davvero come lavorare con te potrebbe portarmi beneficio straccione no non voglio i vostri soldi tutto qui a parte la cosa continua a puzzare non poco ah non mi dire già lo faremo notificare questo è uno di quei casi in cui una palla di fuoco risolverebbe tutto ma lasciamo stare sono il lord comandante dei custodi grigi quindi sei tu il cacciatore che ha trovato l'ingresso per le vie profonde oh sei qui per investigare il chasm sei tu? è circa il tempo non posso prendere tutto il credito per trovare il rift sai Mika è qui è in prima raccontami cosa è successo continuate sì esatto d'accordo quindi chi è stato? d'accordo ma sembra che siete sopravvissuti nonostante la vostra lasciamo stare no decisamente no tipico tutti pensano che sei un tipo di ero ma tu sei una felicità per qualche gloria ah sai fuori da mio face ehi stavo stavo per difendere maiku ma poi ho pensato a tutti voi ai vostri commenti mi sono sentito in colpa quindi andiamo dalla fenditura andiamo dalla fenditura priorità priorità wow capire perché dopo tutto definire la terra aperta come un uovo dal creatore non è una cosa sottile andiamo e vediamo se i nostri setup sono divenuti quel che speravo all'attacco oh sì funziona è incredibile l'orso non ha sfiorato nessuno di noi si è fiondato su ogren e non l'ha mai mollato sta funzionando sta davvero funzionando guardate quanti buff niente male eh cosa cacciatori di taglie un biglietto siamo così potenti che lanciamo un dedurto dai nostri corpi eh ogren sei un epicentro di aura potente sei un super saiyan ormai forse ho esagerato con i tuoi level art ho visto che c'era una borsa ah è sotto le donne sono trattate quando spieghi con questo uovo come uomini a una fiamma le donne piace quando i uomini mostrano affezione per i piccoli, fizzati, non essenti come tu stupido mage ogni volta che prendo qualcosa fuori delle mie ruote le donne si fuori beh al di là del fatto del nostro low track amatoriale cosa che ti fa saltare in aria così tanto è l'aria di insolenza è molto interessante ma per l'amor del cielo mentre giochiamo e parlate non tenerla attiva che altrimenti il video diventa probabilmente insopportabile sacrificherò l'abilità ma il silenzio è d'oro a volte oh mica davvero ha perso le sue cose qui non hanno affatto mentito queste costruzioni tra l'altro attenzione, nuove missioni tra l'altro qui le cose continuano ad andare piuttosto avanti in fretta queste costruzioni sono molto interessanti sembrano naniche ma non sono certo di questo e non credo che Ogre mi possa aiutare in questo dettaglio ehi, guardami sono un elfo i città sono bellissimi tra la la no, no, no Ogre non può aiutarci in questo no wow cavolo cazzuta forza bomba vaganti virulenta cercate di fare una cosa come si deve e tu perfetto sei già pronto mi piaci fight aiutala attiva velocità per questa volta su tutti noi su tutti noi durerà poco il suo mana ma ci permetterà di vincere in fretta dobbiamo proteggerla chiunque la sia ma ci sono ma ci sono ma ci sono ma ci sono Sì, era... vicino. Per un momento pensavo che ero davvero iniziato alla legione dei morti. Potrei aver scoperto una riba, ma è difficile essere sicuro. Tutto dolce. D'accordo. Ce la farai? Tornare dove? C'è una battaglia da qualche parte? Accidenti. Beh, deve essere ambientata. Sì, è quello che pensavamo. Oh, solo riusciremo in là, eradicare il Darkspawn e tornare in tempo per il supper. Beh... Ups... Il Darkspawn ha cambiato. Sì, sono smarti ora. L'hanno distrutto la legione. L'ho vissuto prendendo alcune delle donne e... Non stavo cercando di prendere le madri della nidiata. Come fanno ad essere così organizzati da potersi persino gestire un piano per riprodursi più velocemente? Accidenti. Bene. Combatterò insieme a te. Vedete, ragazzi, Maiku è questo tipo, probabilmente, in questi dettagli. Il pensiero di affrontare la parola oscura in un luogo dove lei sta cercando di costruire un'armata e quindi diventare più potente, andarle a toccare il nervo scoperto. Per lui è il pane quotidiano quando può farlo. Si sta risvegliando su lui un po' il guerriero che è stato un tempo. Il problema è che non è mai stato davvero un guerriero. È sempre stato convinto di essere un guerriero, ma solo adesso, piano piano, grazie alle persone intorno a lui potrebbe cominciare a sembrare di poterne diventare uno. In realtà queste scelte lo portano ad allontanarsi dall'essere un guerriero. Non è questa la decisione giusta, ma combatterà insieme a lei, indipendentemente da quello che pensa di tutto questo. Perché è la parola oscura. E in questo caso, meglio subito, meglio oggi che domani. Meglio l'uovo che la gallina, appunto. E non è mai una bella scelta l'uovo piuttosto che la gallina. Non trovate? Che li percepisco e sono un mago, non un nano. Tutto qua. Sono un custodio grigio. Ah, miei condolences. Non perderemo tempo. Calharola c'è in Darkspawn, quando si resta con i loro dispositivi. Si tratta di tutti i tipi di nonsensi. Oh, è un membro del party, lei. Figo. Ma ne riparliamo dopo. Non voglio scoprire nulla su di lei per ora. Ho un party piuttosto completo, anche se... Nathaniel, tu sei... Ah, proprio la bestemmia sparata a cannone, Nathaniel. Beh... Voglio conoscerla un po', chissà se ci sono dei dialoghi su di lei. Mi piacerebbe tantissimo che ci fossero. Andiamo. Accettiamo. Wow. Questo è veramente affascinante. Tu invece no. Basta, Ogren. Posso parlare con te? Chi sei? Sigrun. Certo che voi nani avete dei problemi, eh. Ma proprio... Piuttosto... Chiari. Cadaveri devo provare lo scuro. Ah. Beh. Qui c'è parecchio da fare. Stiamo per esplorare delle vie profonde, ma sono costruite. Quindi non sono ancora vie profonde. Non siamo abbastanza a fondo. Interessante. Via profonda. Cioè, nonostante comunque è via profonda. Perfetto. Siamo già nelle vie profonde, allora. Nel primo stadio, vista la luce qui. Interessante. Ma per ora, ragazzi, basta. Codex. Ecco qua. Questo ho promesso di leggerlo e mi sembra il caso di farlo adesso. I Goal, no? Ricordatevelo cosa abbiamo visto nello scorso episodio. Il nome deriva dalle creature corrotte e che in genere vengono conservate come fonti di cibo della prole oscura. Perfetto. Semplicemente non vengono uccise, ma diventano ombre distorse di se stessi. I discevoli. Sono dei prole oscura diventati senzienti dopo un oscuro processo di risveglio, al termine del quale scelgono il proprio nome. Sono creature astute, potenti e con una notevole influenza sui prole oscura non risvegliati. Cultura e storia. Yihau di Amaranthin. Sono una delle famiglie nobili più antiche del Ferelden. La loro stirpe risale ai tempi di Cullenhad, quando Elias Howe fu uno dei primi proprietari terrieri a seguire Cullenhad. Durante l'occupazione, Arl Tarleton Howe, il padre di Rendon, si alleò con gli Orlesiani. Rendon, bastardo. Dopo diverse battaglie contro i ribelli, la città di guado dell'arpista, avamposto governato dai Tarleton, cadde in mano ai Causland di altura perenne. Tarleton venne impiccato. Rendon schierò la famiglia al fianco della ribellione di Myrik Therin e Loghain McTeer. Il coraggio dimostrato da Rendon durante la battaglia del fiume bianco, combattendo insieme a Bryce Causland, servì a restituire l'onore alla sua famiglia. Quando Ray Myrik salì al trono del Ferelden libero, Rendon Howe venne decorato per il servigio reso, ma non meritava quell'onore decisamente. Allora, wow, ecco qua. Questi sono i nuovi codex aggiunti, si vede, vero? Nani di superficie. Osserva nuvole, ciechi alla pietra, nani del cielo. Così nani chiamano i loro cugini di superficie. È una tradizione comune nominare tali parole con disprezzo. Un nano che sale in superficie rinuncia alla propria casta, alla propria casata e al favore dei suoi antenati. Una volta che ha messo piedi in superficie, non è più il benvenuto a Orzomar. Tuttavia, negli ultimi anni, diversi nani si sono trasferiti in superficie. Alcuni sono senza casta, nani senza nulla da perdere, altri credono di poter guadagnare qualcosa. Altri ancora ritengono che sia solo questione di tempo prima che Orzomar cada dinnanzi a Prole Oscura. E poi, ci sono i nani della casta dei mercanti, con il loro temibile fiuto per gli affari. Una volta ne ho incontrato uno che mi ha quasi convinto a comprare il mio stesso cappello. Oserei dire che a buona parte dei mercanti non importa niente di perdere la propria casta o il favore dei loro antenati. Basta che vengano ricompensati per questo. Perfetto, genitivi, chiacchierone come sempre. Il grande conflitto. Logo, riscrizione del cuore della Fortezza della Veglia parlano del clan degli Avvar che si era stabilito qui. Con i nostri guerrieri, ineguagliati in abilità e forza, e qui ci stabilimmo nelle caverne intagliate della mano di Korth, il padre della montagna. Ruadan, sciamano del nostro popolo, si ribellò agli dèi che lo avevano ospitato. Nel suo dolore distrusse i doni del padre della montagna e ci trascinò giù con lui. Questa cosa spero che venga esplicata in maniera più estesa più in là. Il primo custode. Il capo simbolico del nostro ordine è il primo custode, ma potrete aspettarvi ben poca assistenza ai consigli dalle Underfell. Anche coloro che si trovano vicini a Weishaupt imparano a cavarsela da soli. Le voci sono vere. Il primo custode è spesso immischiato nella politica delle Underfell e ha poche opportunità di considerare le faccende mondane. Quindi è lui il vero capo dei custodi, non sono io. Io sono un piccolo generale che fa parte di questa sezione. Mi piace credere che sia una questione di sopravvivenza e non un interesse personale politico. Sappiate che la vostra missione è vitale. Portate sulle vostre spalle le speranze del nostro ordine. Se i più grandi di noi avranno lo di titoli nobiliari all'estero delle Underfell, forse saremo meglio preparati quando raggiungerà il prossimo flagello, come ben sappiamo, essere necessario. Oh, le cose noiose che odia Maiko. Vassalli e feudatari. Alcuni regni stabiliscono rigidamente i diritti e i doveri dei vassalli verso i propri feudatari. Nel Ferelden, un regno relativamente recente, teoricamente gli Arl e le Arlesse comandano i Ban e i Lorde della propria Arlea. In pratica, invece, spesso questi ultimi mantengono avidamente la propria indipendenza. Alcuni vassalli del Ferelden necessitano di sproni invece che di ordini di essere influenzati anche da sicché governati. I vassalli hanno determinati obblighi militari verso i propri feudatari, eppure spesso rinnegano giuramenti e impegni scritti. Viceversa, i vassalli si aspettano la protezione dei feudatari contro qualsiasi provocazione. Un feudatario del Ferelden deve sapere applicare in ugual misura forza, persuasione e doppiezza. La fortezza. È uno degli insediamenti più antichi del Ferelden, precedente persino a Denerim e Guaren. Wow! I barbari che combatterono l'impero Tevinter scelsero tale posizione per costruire una fortezza che potesse avvertirli con fuochi di segnalazione visibili a lunga distanza dell'arrivo delle navi del Tevinter sulla costa. La fortezza ha affrontato battaglie durante tutte le maggiori invasioni del Ferelden. Soldati del Tevinter, clan barbarici rivali orlesiani, hanno solcato i suoi camminamenti. La fortezza della Veglia è stato il primo forte a cadere in mano agli orlesiani, e l'ultimo a essere liberato. I sotterranei della fortezza della Veglia mantengono alcune tracce dei barbari Havar. Per Havar, la fortezza era un forte e un luogo sacro. I sotterranei contengono monumenti ai loro dei, ai loro eroi e alle loro rare vittorie militari. Personaggi. Anders. La gente adora venire svegliata al mattino con un caccio in faccia. Io sono soltanto schizzinoso. Anders è un mago eretico. È stato arrestato dai Templari con l'intento di riportarlo alla Torre del Circolo. La fortezza della Veglia era solo una breve sosta nel loro lungo viaggio. Sfortunatamente, la fortezza è stata attaccata subito dopo il loro arrivo, e Anders è stato trovato dinanzi ai cadaveri dei suoi carcerieri. Il mago insiste nel dire che sono stati uccisi dai Prole Oscura. Ciononostante, Anders si è unito a Maiku per sconfiggere i Prole Oscura nella fortezza della Veglia. In seguito, è stato reclutato nei custodi grigi ed è sopravvissuto all'Unione. Il comandante ha donato ad Anders un gattino. Anders ha risposto... Il gattino ha riposto il gattino, Sir Pelosotto, tra le sue vesti. Bene, è bello leggerlo così. Oh, bene bene bene, questo è Ogren. Tuttavia, al termine del flagello, Ogren si è stabilito dalla sua vecchia fiamma. Si è stabilito dalla sua vecchia fiamma, Felsi, con cui ha avuto un figlio. Ma la pace domestica non è durata. E così Ogren ha raggiunto la fortezza della Veglia, nella speranza di diventare un custodio grigio. È sopravvissuto all'Unione. Probabilmente la sua lunga esperienza nel vero intrugno indicibile ha contribuito. La passione di Ogren per le bevande forti non è diminuita. E infatti abbiamo altri doni per lui. Mairi, lasciate che ve lo dica, sono molto orgogliosa di prestare servizi sotto il vostro comando. Era una ragazza speciale e molto convinta di questo suo obiettivo e dovere, peccato per lei. Prima di accettare di unirsi ai custodi grigi, Mairi era un cavaliere dell'esercito del Ferelden. Non esiste onore maggiore per lei, né il miglior modo di persevere la propria nazione, ed è ansiosa di sottoporsi all'Unione. Purtroppo, l'entusiasmo di Mairi non è bastato a salvarla. È morta durante l'Unione, come molti altri prima di lei. E ora riposa, come un custode grigio. Morrigan Dopo la battaglia, Morrigan sparì. Lo sguardo critico di Morrigan non è riservato soltanto agli altri, che ne sia consapevole o meno. Ha una passione per i gioielli, bla 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 bla, perfetto. Nathaniel Ora, i pochi Howe rimasti sono dei Paria e dei Pirla. Nathaniel Howe è il figlio del disonorato Arl, Rendon Howe, uno degli ultimi rampolli di questa antica famiglia. Accusa i custodi grigi della morte del padre e ha intenzione di assassinare il comandante dei custodi. Tuttavia, la visita alla fortezza della veglia, durante la visita alla fortezza della veglia, dove ha trascorso l'infanzia, Nathaniel ha deciso di reclamare alcuni dettori di famiglia. I custodi lo hanno sorpreso durante l'intrusione. Maiku, colpito dal sentire che ci sono voluti quattro di essi per catturarlo, ha invocato il diritto di coscrizione, facendo del giovane Howe una recluta dei custodi grigi. È sopravvissuto l'unione ed è una persona assennata che preferisce i doni pratici ai ninnon inutili. Non credo avrà mai doni da me, ma neanche mezzo. Sigrun. Oh, mi interessa. Sigrun, un saggio mi consigliò di non discutere mai con le persone armate meglio di un intero esercito. È un membro della Regione dei Morti, guerrieri esiliati da Orzamar, bla bla bla. Il comandante dei custodi ha trovato Sigrun mentre questa fuggiva da un prole oscura nei pressi di Cal Hirol, ultima superstite del suo gruppo. La nana ha infranto il giuramento della Legione non combattendo fino alla morte. Si è unita a Maiku per distruggere la Tana di Prole Oscura e ne sapremo di più molto presto. Sigiscalco Varel. Sa, interessante sapere di più su di lui. Varel ha trascorso tutta la vita difendere Amaranthin. Quando Rendon Howe era Arl, Arlè, aiuto, aiuto, povero me. Varel fu per un breve periodo siniscalco della Fortezza della Veglia, ma dopo aver ripetutamente disobbedito agli ordini di Howe venne più volte degradato. Ciò nonostante continuò a prestare servizio con sprezzo. Quando le azioni di Howe si fecero più sinistre, Varel iniziò a offrire segretamente rifugio ai bisognosi e a sfruttare il poco potere in suo possesso per contrastare le atrocità dell'Arl. Qualche tempo dopo, Varel giaceva nei sotterranei in attesa di esecuzione, ma Howe morì prima. Quando i custodi grigi ottennero le terre di Amaranthin, l'ordine rielesse Varel come siniscalco. Sebbene non sia un custode grigio, però, la sua posizione di amministratore delle terre di custodi lo pone a conoscenza di molti segreti dell'ordine, compreso il rituale di unione. Questo raro onore è la prova del suo valore. E in più abbiamo appunto queste lettere che abbiamo trovato. Lettera per Rendon Mio Lord Howe, alcuni degli uomini non sono soddisfatti del vostro piano. Inciteranno gli altri contro di voi. Affinché il piano abbia successo, le nostre forze devono essere unite. Se il piano dovesse trapelare, se anche solo uno di questi dovesse informare i Caosland, ne andrebbe della vostra vita. Lo dico con il massimo rispetto, sir. Lowen. Lowen, non possiamo permetterci un'insurrezione. Sbatti in cella a qualsiasi sbellatore. Fa tutto il necessario per estirparli. Tutto il necessario, Lowen. Non deludermi. E questo invece mi interessava tantissimo perché stiamo cercando di appunto sgammare cose da fare i ducchi satana. Elmore. Ho trovato ciò che stavamo cercando. E anche di più. Smettere di scavare e raccogliere le tue cose. Sto tornando al campo. Incontriamoci lì. Andremo ad Amaranthin. Troveremo un compratore. Diventeremo ricchi. E quello che ho trovato invece riguardo a questo luogo misterioso? Beh, lo scopriremo. Per ora questo è solo gameplay. Perfetto, ragazzi. Abbiamo finito il codex. Ora siamo veramente preparati al prossimo step. Alla prossima. Ciao. Ciao.